Frana di Gallivaggio, un evento naturale così drammaticamente incontenibile da dimostrare ancora una volta che l'essere umano è poca cosa dinnanzi alla furia degli elementi. Gli eventi dell'estate del 1987 sono lì a ricordarcelo. Oggi, l'isolamento nel quale i 1500 abitanti della Valle Spluga vivono da 47 giorni, travalica i confini regionali guadagnandosi gli onori della cronaca nazionale, anche grazie alla redazione giornalistica di Telesondrio News, che con i suoi inviati ha documentato e continua ad attestare il progredire, a volte lento, a volte rapido, della situazione. Martedì scorso, dopo ore di attesa, i 5000 metri cubi di roccia aggrappati al fianco della montagna sono finalmente rovinati a valle, risparmiando miracolosamente il santuario di Gallivaggio, il ponte e la strada statale 36. I nostri corrispondenti sul posto, Michele Broggio e Paolo Bombardieri, hanno seguito, minuto per minuto, l'intero evolversi del tanto atteso distacco. Alla redazione di Telesondrio News, la nota trasmissione e la vita in diretta, Rotocalco in onda quotidianamente su Rai 1, ha fatto riferimento nella giornata di ieri, avvalendosi delle numerose e inedite testimonianze da noi raccolte in quei drammatici momenti. Si sapeva, in base ai dati forniti da ARPA, che la frana si sarebbe staccata a breve, nel giro di qualche ora. Quindi noi... Michele, tu stavi lavorando, quindi? Io stavo lavorando, sì. E cosa è successo a un certo punto? Allora, noi eravamo sul sentiero, io e il mio operatore Paolo Bombardieri, di fronte al luogo da cui si è distaccata la frana. Ci hanno chiesto, pochi minuti prima che si distaccasse la frana, di spostarci a causa del pericolo costituito. La frana era monitorata, quindi attorno alle 4.10 i tecnici sapevano che di lì a pochi minuti la frana sarebbe collassata. Quindi ci hanno chiesto di spostarci e mentre noi venivamo qui a Castagneto la frana è caduta.